devi ammetterlo bibi hai perso i tuoi poteri ma se ho appena risolto la situazione bibi senti ne dobbiamo parlare sì e lo faremo davanti a una super pizza vegetariana con una cremina all'aglio di mia creazione che bella pensavi di mangiarla con le mani fratello che orrore ad opera la forchetta stella ti prego super orrore fratello il tovagliolo usalo ma che animali da quando bibi è diventato così raffinato ma certo il comfort della vita moderna l'ha spogliato del suo istinto animale quindi è per questo che bibi non può trasformarsi in un animale avete ragione il vecchio bibi mai avrebbe mangiato una pizza con la forchetta devo recuperare i miei istinti animali ricongiungendomi con madre natura fai molta attenzione bibi stiamo parlando della peggiore madre di tutte c'è una ragione se tutti noi viviamo nelle case devo farlo fratello devo essere libero dunque si libero bibi vai si libero 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 perché sei vestito così pensavo che fosse un pigiama party non è un pigiama party bello siamo in missione e allora come mai voi avete indossato il pigiama tuta i nostri non sono pigiama tuta questi sono shinobi shouzoku è l'abito tipico dei ninja si usano per le operazioni segrete e senza non porteremo mai a termine la missione rubare il mcguffin nascosto nella fortezza che cos'è un mcguffin è quello che cerchiamo ma di cosa si tratta non ci interessa l'importante è muoversi in silenzio oh forte un penny ehi ragazzi un penny colpa mia guardate dentro quella scatola c'è il mcguffin ancora non ci hai detto che cos'è è quello per cui siamo venuti ma perché quando lo vedrete lo capirete al mcguffin non servono spiegazioni apriamo la scatola e vai fermo wow forte se ti toccano i laser scatta l'allarme fallirà la nostra missione baby i laser vi prego sono così tranquillo che questi laser non mi sentono neanche colpa mia colpa mia colpa mia finalmente di nuovo da madre natura sole meraviglioso aria fresca acqua pulita così buona così fresca così pelosa come va piccolino come ti tratta la natura che si dica perché natura perché non 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 Caspita, avevi ragione sul McCuffin Non so ancora che cosa sia, ma lo voglio tantissimo Che vinca il ninja migliore Vedi, un vero ninja deve... Non mi batterai, bello, sono troppo veloce Sì, però io... Oh, guarda, un Penny Dove? Oh, è un Penny fortunato La tua abilità è micidiale, ma non sei al nostro livello Ah, davvero? Silenziose, ma tremende Fai sul serio È la definizione di ninja, bella Devo essere veloce Finalmente Il McCuffin, ce l'hai fatta? Bibi non è riuscito a superare il maestro Ad ogni modo, dov'è finito? Non lo so, ci addormentate Non è più un problema adesso Perché il McCuffin è mio! Quello è il McCuffin? Tutto questo messo in scena per un panino? Sì, un delizioso panino con l'uovo Solo per un egg McCuffin Sapevo che Bibi non mi avrebbe sconfitto Perché c'è solo un maestro E sono io Ninja Incredibile! Sei stato un ninja, bello! Corvina, forse se tu... Cyborg, attento! Oh, oh, ma dai! Bibi, trasformati in pterodattilo! Concentratevi! Roby, rilassati! Bibi, che cosa ci fai qui? Credevo che fossi in missione Oh, giusto Avevo dimenticato che eri a casa Oggi mi andava di restare un po' qui Ma io ti ho appena visto là! A volte mi faccio sostituire da un animale Che ho dipinto di verde Bibi, aiutami! Questo spiega molte cose Devo scoprire come togliere questo collare E tornare là fuori! Oppure potresti semplicemente rilassare... Io semplicemente non ci riesco! È molto facile per tutti gli altri rilassarsi Io ci ho provato Ma non è successo niente! Non so da dove iniziare! Oh! Sei più teso di quanto io avessi immaginato Non pensare a niente e a nessuno Ignora tutte le distrazioni esterne Ecco il tuo test Per tutta la giornata Niente comunicatore Niente comunicatore Nessun problema È un inizio Adesso alzati Guarda lì Hai a malapena lasciato l'impronta del sedere sul divano Per rilassarti veramente Impara a diventare tutt'uno con il divano Tutto uno con il divano? Tu segui il grande maestro Dovrei mugolare in un modo particolare? Per esempio in chiave minore? O è meglio in maggiore? Oppure forse... Lasciati andare Diventa tutt'uno con il divano Cosa? Ma come ci riesci? Trova il tuo relax amico Aspetta! Ho delle altre domande! Bibi non lasciarmi! Ehi, non toccarlo! Non stavo toccando niente, bello! Allora, Cyborg Quanta potenza ha questo tuo cannone laser? Beh, arriva a 54 giga Ti ho già detto di non toccarlo Non l'ho fatto! Sì, invece! Mi hai beccato, Corvina? Sì, lo stavo per premere Sai come sono fatti i gatti? Per favore, Bibi Frena i tuoi istinti animali per una volta Va bene, va bene, va bene Non tocco più niente Come stavo dicendo Arriva a 54 giga Togli subito la tua mano da lì O sarà la nostra fine Se premi quel pulsante! Scusa, non accadrà più Cosa è successo? Eh, vi ho quasi annientato, bello Ma a niente paura Ho rimpiazzato il sangue che avete perso Con quello mio Col tuo sangue! Davvero? Disgustoso! Toglicelo subito! Oh, ma dai! Vi ho salvato in questo modo! Dopo averci fatto del male! Sì, mi dispiace tanto Tu non hai saputo resistere ai tuoi istinti animali Bibi ti sei comportato male! Robin! Ti sei trasformato in un cane! Il suo sangue deve averci dato il potere E di trasformarci in animali Vorrei trasformarmi nell'animale, miau! Sono una gattina adorabile! Miau, 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 miau Miau, 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 miau Ho tanta sete? Rinfrescante? È davvero stupendo! Ricordatevi, Titans Possiamo essere animali Ma non diventare come loro Come vuoi! Voglio trasformarmi in un asinello! E la colazione è pronta! Che cosa ha questo buon profumo? Stiamo facendo colazione! Non parlo di quell'odore Ma di quest'altro! Bibi, vieni subito qui Così posso annusarti meglio Oh, sì, sì, ragazzi Provateci anche voi! Così si è così minorria Sì, ragazzi